riccardo rocchesso della nuova padagna ciao riccardo allora caro riccardo partiamo vogliamo commentare col prima di parlare insomma di un paio di argomenti mi sembra un grande casino stavolta con questo decreto perché hanno tentato di far ricadere la responsabilità sulle regioni le regioni insomma hanno risposto in modo altrettanto caotico e quindi mi sembra venuto fuori un po pocchio così anche un po fastidioso per questa storia delle mascherine ma intanto le regioni hanno tutte le possibilità le facoltà di peggiorare in ogni momento la situazione quindi è uno scaricabarile comodo per il governo anche se secondo me il primo che verrà scaricato a breve sarà conte in quanto io vedo che proprio dai presidenti di alcune regioni c'è abbastanza polemica ci sono parecche polemiche su alcune decisioni e mi sembra che si si vada verso una a un governo tecnico quindi questo gioco di scaricabarile può essere funzionale anche un cambiamento probabilmente ai vertici secondo ti ci sarà un'influenza rispetto a quello che accadrà stanotte tra oggi e domani ora italiana con le elezioni usa ma secondo me è già stato deciso e c'è stata la notizia se ti ricordi bene di quel gran movimento di auto blu sotto casa di draghi alcune insomma ci sono alcune discrezioni che porterebbero a un governo di larghe intese questo dimostra anche come la lega si sia piegata alle volontà di forza italia e come si stia avvicinando alcuni gruppi comunque più europeisti e quindi molto probabilmente si va verso un governo di larghe intese in questi giorni due due trend ci sono stati il primo è quello delle persone di alcune persone che hanno iniziato a fare dei video fuori dagli ospedali in particolare dai pronto soccorso è andato alla ribalta soprattutto il video della signora che è andata fuori dall'ospedale sacco di milano che è stata poi attaccata da mentana da striscia la notizia e altri organi accusandola di essere andata nel punto sbagliato dell'ospedale sacco ci sono anche delle minacce di di querelle nei suoi confronti lei ha ribattuto in un video che ha le prove di quello che che insomma ha detto e fatto vedere ci sono altri video da altri ospedali devo dire la verità a me non è una cosa che mi appassiona particolarmente nel senso che secondo me non è l'ho già detto un paio di volte non è come dire così rilevante secondo me perché anche se fosse tutto così cioè che è tutto pieno come a foggio ho visto c'era la fila delle ambulanze fuori dice il giornale di sospetti covid quindi i sospetti covid non dovrebbero essere diciamo della a meno che non siano gravi ovviamente e rischino la vita ma qui manca proprio tutta la la parte che dovrebbe fare un filtro no della della medicina del territorio che permette anche la gran parte no di essere curata a casa quindi effettivamente cioè questo non lo so tu cosa ne pensi ma da una parte può essere incumiabile che dei cittadini ci fanno vedere vanno a documentare però credo che a molti di loro manca diciamo lo strumento magari ecco che potrebbe avere un reporter cosa che ovviamente che porta che non lo fanno questo tipo di attività cioè di andare effettivamente nei luoghi chiave se vuoi documentare una certa realtà cioè mi sembra una cosa così un po direttantesca che poi rischia anche qui come tante altre cose che che vediamo no rischia poi di diregittimare come al solito chi fa un'informazione diversa tu cosa ne pensi ma io penso che visto che la sanità va verso la trasformazione digitale tra l'altro nota zaia che parla tanto di sanità chilometro zero ha nominato un napoletano a capo della sanità nel regione veneto chiusa parentesi che mettono loro le telecamere per dimostrare cosa succede veramente alle entrate invece che siano i cittadini che ovviamente anche secondo me sono delle attività che sono abbastanza discutibili però su facebook ci sono stati dei gruppi stati fatti chiudere ma in cui c'erano decine 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 segnalazioni di questo tipo anche dentro le parti nelle vie preferenziali per i covid poi ti dico altri si sono invece attrezzati per seguire le ambulanze perché secondo molti le ambulanze vengono oscurate e mandate a girare a vuoto per creare un po di atmosfera secondo certe persone quindi sì si sta restando un po questo problema qui però poi ci sono anche quelli dall'altra parte tipo il primario di riboli che tra l'altro riboli mi ricordo aveva fatto una notizia che sarà l'esercito c'erano alcune cambiamenti dell'esercito davanti all'ospedale poco dopo cosa succede che fa questa lancia questa polemica in cui invitava i complottisti negazionisti a farsi un giro con lui nelle parti covid questo ovviamente ne è scato un sacco di polemiche però anche alcuni medici sotto sotto il suo post hanno commentato dicendogli benissimo veniamo siamo contenti di poter venire però ci mostra anche le 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 schede dei pazienti e tutto quello avete fatto ovviamente è abbastanza anche una presa per il culo secondo me in quanto i parenti non possono neanche visitare i pazienti questo lancia i tour quindi c'è un po questo giochino delle parti che sinceramente è pietoso tra l'altro notizia dell'ultimo minuto a milano hanno messo dei murales con per praticamente premiare i medici insomma con delle persone con delle mascherine e sono stati vandalizzati questa notizia dell'ultimo minuto ho letto gli altri qualche giorno non so se era di ieri la notizia insomma l'ho letta prima ma credo fosse di qualche giorno fa o di magari di ieri non ricordo esattamente comunque l'associazione non so come si chiama degli anestesisti rianimatori no che si lamentava delle fake news e anche dei messaggi che lancia sgarbi che lanciano altri che delegittimano il lavoro sai che c'è molta discussione sul discorso delle persone intubate e quindi dice queste dichiarazioni insomma ci delegittimano ci fanno un danno e quindi insomma era un po la difesa diciamo della della categoria come dire crede c'era un punto che diceva credete ai dati che diamo punto insomma non fate troppe domande questo è un po il messaggio quindi la io la domanda credo che sia sempre legittima no sul fatto delle ambulanze vuote faccio molta fatica perché comunque questo prevederebbe no un complicità proprio del personale diciamo quello poi così che si trova nella scala anche più bassa del diciamo della gerarchia sanitaria mi risulta molto difficile insomma pensare che mandino in giro delle ambulanze vuote solo perché tanto il panico già lo creano abbastanza no con i telegiornali non credo c'è bisogno di mandare delle ambulanze vuote l'altra l'altra vicenda è sulla polizia cioè su alcuni interventi delle forze del loro in particolare dobbiamo dire la polizia municipale che è piuttosto zelante in questi giorni dopo il caso della donna di firenze di settimana scorsa sempre a firenze un ragazzo senza mascherina che si sarebbe rifiutato perché poi il light motive è sempre lo stesso la persona viene fermata senza mascherina e si rifiuterebbe di dare le generalità e poi reagirebbe insomma aggredendo dicono le note poi stampa di questi organi gli stessi agenti aggressioni che nei video a volte si intravedono a volte no comunque a firenze è stato un ragazzo in 4 5 insomma agenti su di lui a pescare una coppia che ho letto qualche giornale locale diceva comunque pregiudicata con per altri motivi e qui anche qui un ragazzo portato via con un dispiego di forze francamente esagerato mettiamoci anche pure quello che è successo a napoli dell'avvocato che aveva organizzato una specie di cena a casa sua con 6 7 persone qualcuno ha avvisato i carabinieri sono entrati cioè sono il campanello hanno chiesto i documenti di tutti non si sa in base a quale legge non c'è nessuna legge che prevede che una casa è una raccomandazione il dpcm una casa può invitare chi vuole e ci mancherebbe ma ci siamo abituati a delle cose che non sono normali non è normale che in una democrazia ti vengono a chiamare a casa tu stai lì a cena con chi ti pare e ti vengono a suonare per identificarti per quale motivo per quale ipotesi di reato io credo che sia una cosa veramente grave a cui ci stiamo abituando e questa è la cosa che fa più paura no riccardo sì ormai local team è diventato più interessante di netflix c'è davvero assistendo una deriva autoritaria e io non credevo che fosse un cambiamento così veloce ma sembra davvero di vivere in un stato di polizia fabio cioè io credo che sia anche palese però che sia voluto portarsi tutto ciò cioè vedere persone in divisa soprattutto come dicevi tu i vigili polizia municipale cioè oltre che sono sono anche cittadini che dovrebbero giura hanno giurato di proteggere il popolo ma non di aggredirlo invece abbiamo già visto che all'inizio lockdown sono stati sempre più casi ma in tutta italia e mi ricordo un sacco a marzo in sardegna di aggressione ma violente anche verso persone che per verità mi ricordo anche di una coppia ma queste si sono proprio dimostrate sempre più autoritari nelle sulle mascherine io non vorrei che questo discorso qui delle mascherine come anche nel dpcm nuovo sia sempre più obbligatoria proprio per portarci ad abituarci che si servirà un accessorio come abbiamo già detto in passato per fare qualsiasi cosa quindi no vaccino no party e quindi la mascherina sono un preambolo purtroppo so che anche oggi a savona c'è stata una manifestazione che è durata poco di particolari baristi che storatori e pari sia stata lanciata per la prossima settimana un'iniziativa che è stata già fatta a pesaro a bologna in altre zone d'italia parlavamo la settimana scorsa di locali che terranno aperti quindi come forma di disobbedienza civile anche perché come diceva qualcuno che l'ha fatto cioè ti fanno comunque la prima volta ti fanno un verbale quindi paghi una multa però tu il giorno dopo puoi riaprire un'altra volta dopo c'è il rischio che ti sospendano per tre o quattro giorni non so quant'è però a quel punto tu lo puoi rifare ancora quindi se ai gestori c'è il guadagno supera le sanzioni diciamo è una mossa che se ritengono chiaramente tutto quello che stanno vivendo ingiusto possono anche pensare di fare chiudiamo con questa novità che ti riguarda 100 giorni da leoni che è un canale youtube dove cosa accade 100 giorni da leoni è un'iniziativa che ho realizzato insieme a luca teodori che è segretario nazionale del movimento 3v ed è un videogiornale la mattina alle 7 in cui analizziamo sia le notizie principali dei media commentandole sia anche trovando come già io e te facciamo quelle chicche quelle notizie insomma un po' più strane che ovviamente ci stanno dimostrando la situazione attuale che sta proprio degenerando velocemente 100 giorni da leoni perché saranno 100 puntate le faremo intanto quest'anno e speriamo che basteranno per portare più cittadini a capire a riutilizzare la logica a riaccendere la speranza ma anche soprattutto a a contrastare questa deriva che comincia ad essere davvero pesante fabio e non solo tema io vedo io ho molta preoccupazione nei prossimi mesi e anche le elezioni americane non aiuteranno tutto ciò e già grazie riccardo di essere stato con noi e allora buona avventura per questa nuova idea nuovo progetto è sempre bello quando nascono delle nuove idee grazie riccardo e ci sentiamo la settimana prossima ciao fabio